buonasera buonasera a tutti che ci seguite oggi 11 gennaio 2018 diciamo inauguriamo questo anno con la prima trasmissione di libri tv e parliamo di voci trasnazionali diciamo un un gruppo di trasmissioni importante un canale importante di libri tv così lo potremmo chiamare parlando di iran con il nostro amico ormai che ormai da lunga data ci ci informa su quello che succede in questo paese che è sostanzialmente la persia possiamo dire in modo più romantico un po più aurico ma è quello esmail mohades che conoscete già presente sui nostri schermi e nei nostri archivi da tempo e ma adesso uno scrittore ha scritto dei libri e lo postiamo di recente peraltro trovare anche con un articolo sull'opinione se non vado errato l'opinione si delle libertà con un articolo del 9 del 9 gennaio allora di che cosa parliamo parliamo ovviamente di di quello che è un per un breve diciamo tratto del la parte iniziale proprio di gennaio del 2018 ha avuto gli onori della cronaca abbastanza in modo enfatico e poi dopo è scomparso cioè una serie di disordini così potremmo chiamarli poi ismail ci spiegherà meglio di chi si tratta in iran probabilmente non in tutte le città poi ci dà bene ismail in quale città cosa vuol dire questo disordini di protesta nei confronti del del governo in qualche modo dell'autorità sappiamo che in iran appunto noi cerchiamo di parlare ovviamente la rete quindi senza dare nulla per scontato c'è il regime dei mullah c'è questa diciamo aristocrazia religiosa che esprime poi anche il potere politico c'è questo attualmente il governo ruani qualche anno fa ne abbiamo molto parlato è stato concluso l'accordo cosiddetto sul nucleare iraniano ma sostanzialmente queste proteste pare che abbiano come motivo una sorta di praticamente di situazione economica drammatica che ha portato gran parola alla fame ecco io do la parola a esmail per cominciare appunto questa conversazione per darci appunto delle magari informazioni più esatte e soprattutto darci le informazioni che la stampa oggi in questi periodi televisioni e giornali non danno più pare che tutto sia sparito ma esmail è veramente così allora diciamo che intanto le manifestazioni sono partite il 28 dicembre a mashat la seconda città più grande dell'iran inizialmente le proteste erano per il caro vita perché nel bilancio dell'anno che verrà 21 marzo come sapete alcuni generi di prima necessità avranno avuto un aumento addirittura del 50 per cento e poi altre serie misure economiche veramente allucinanti quindi la gente ha cominciato a protestare a mashat ma la cosa molto interessante che immediatamente la protesta si è diffusa in tutte le città iraniane la caratteristica che soprattutto è la protesta arrivata nelle città della provincia addirittura c'erano delle città delle province piccole città io sinceramente non ricordavo dove fossero quindi sono dovuto andare sul google per vedere dove questa cittadina piccola e quindi a questa caratteristica che le manifestazioni avevano luogo nelle piccole città perché questo perché io naturalmente lo prendo come un segno dell'intelligenza dei manifestanti che hanno cominciato a fare nelle piccole città dove si presume che la borsa delle repressione è un po più lenta ma non è detto mi dicevi mi dicevi che se queste manifestazioni sono rientrate non sono rientrate per esempio le ultime notizie che in iran fino adesso hanno arrestato oltre 8 mila persone i morti sono 50 persone e addirittura due morti certi sotto la tortura c'è qualche qualche notizia su cinque persone ma le proteste non sono rientrate per un semplice motivo che i motivi esistono ancora perché ricordiamoci che in iran oltre dieci milioni di persone sono poveri assoluto e chi dice 70 chi 80 chi perfino 90 della popolazione che ha problemi seri problemi economici mentre una piccolissima parte di regime vive veramente alla grande tanto è vero che uno degli slogan principali della manifestazione è che la gente chiede l'emosina mentre i mullah vivono da dio e quindi i motivi ci sono le proteste ci saranno come ci sono per esempio fino a ieri sera erano migliaia di persone di fronte al famigerato carcere di emina teheran a fare le manifestazioni e devo dire con grandissimo coraggio quindi sostanzialmente eh parliamo di 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 proteste ehm per motivi ovviamente che siamo alla base perché per la miseria la povertà eh sono dei motivi che sono eh a prescindere da quella che può essere una almeno adesso una strumentalizzazione politica se così vogliamo dire siamo proprio una protesta di base perché insomma eh quando sono arrivate queste notizie si è cominciata a pensare non lo so subito all'integralismo islamico per dire no? E invece qua siamo proprio gente che soffre la fame e quindi in qualche modo queste proteste sono ancora eh veramente per quanto riguarda i diritti eh fondamentali cioè il sostentamento a gente che è povera quindi al di là di una eh diciamo recriminazione politica allora anche da questi microfoni sostanzialmente la miseria poi è una cosa politica molto importante ovviamente anche eh attraverso questi microfoni abbiamo eh più volte parlato che gli iraniani nel novecento tre volte hanno fatto eh rivoluzione per questioni diciamo morale per istante democratiche per la libertà io lo stesso varie volte ho accennato che potrebbe eh scoppiare una rivolta una rivoluzione questa volta eh per la fame e così è stato perché la situazione eh economica del paese è veramente disastrosa io vi ricordo soltanto dopo eh il famoso accordo nucleare eh nei primi nove mesi l'insoccupazione da 10,7 è salito a 12,7 quindi diciamo quel grado che doveva essere l'Iran per gli iraniani e per gli altri è stato veramente un disastro e quindi ora il regime iraniano non soltanto non ha la capacità di eh attuare un un programma eh eh economico ma non lo vuole neanche quindi in questa situazione i problemi economici facilmente diventano eh problemi eh politici tant'è vero ripeto in qualsiasi eh città soprattutto a Macia veramente da pochissimo tempo eh slogan contro Karovita è passato eh agli slogan politici ma la cosa interessante la cosa interessante per scanzare ogni equivoco hanno dato diciamo slogan contro eh Khomeini e soprattutto contro eh i cosiddetti riformisti tanto sanati dall'occidente perché gli iraniani sanno benissimo che sono tutt'uno semmai loro problemi scresi ma per l'affetta eh del potere ma alla gente non arriva nulla. Sì mh ricordiamo insomma che questo eh peraltro anche il l'accordo sul nucleare vedeva come scenario eh questo governo Rouhani questo questo insomma c'era questa sorta di si diceva che erano più aperti più riformisti più insomma eh però poi alla fine noi abbiamo anche fatto delle trasmissioni sostanzialmente alla fine già soltanto il non rispetto dei diritti umani con le impiccagioni e quanto altro continuava in piena continuità rispetto al passato quindi insomma eh quindi praticamente lo scenario è quello di una sorta di aristocrazia che sta affamando un paese. Esatto è così è così. Diciamo che i governi occidentali eh specialmente quando c'era eh Obama alla Casa Bianca e i paesi europei hanno giurato che questi sono eh moderati a come diceva per cui eh ci vuole veramente coraggio a chiamare Rouhani eh moderato. L'uomo da sempre negli apparati di sicurezza è la prima persona, prima autorità che ha chiesto pubblicamente di fare impiccagioni pubbliche. D'accordo? E quindi lasciamo perdere per quanto riguarda diciamo eh moderati contro eh oltransisti. Adesso per esempio a capo della politica estera europea c'è Federica Mogherini che è veramente a un comportamento inspiegabile. Proprio oggi ha portato ministro degli esseri di regime eh a eh a Bruxelles ha fatto ha organizzato una serie di incontri per appunto tirar fuori regime da questo problema che ci sono però ha dovuto prendere atto che eh naturalmente la situazione è grave. Non hanno fatto diciamo eh una conferenza stampa diritto insieme. Mentre Mogherini e eh ministri degli esseri tedesco eh inglese e eh francese hanno fatto loro una conferenza stampa di cui hanno chiesto conto al regime iraniano che cosa fa nel Medio Oriente per diritti umani eccetera eccetera. Per cui diciamo che la situazione in Iran è questa e ora la gente prende atto no? Che è la totalità del regime che eh non eh non va bene. In queste in queste proteste una cosa che mi piacerebbe tanto sottolineare che secondo me è molto molto importante per esempio la differenza di queste manifestazioni rispetto a quelle del 2009 famosa onda verde anche allora abbiamo detto che non si trattava diciamo eh una protesta dei eh quelli che praticamente volevano una riforma in regime che è impossibile. Allora comunque eh le manifestazioni erano partite soprattutto a Teheran a cui all'inizio a capo c'era Musavi, uomo di regime. Quando lui secondo giorno si è rientrato si è messo si è avvicinato diciamo al regime naturalmente il movimento di protesta è rimasta senza testa quindi man mano a lunghissimi mesi comunque man mano da giugno fino a novembre è andato scemando mentre questa volta è del tutto eh indipendente dal regime. Gli studenti all'Università di Teheran eh lanciavano slogan eh riformisti eh oltransisti siete a capolinea. Sì eh molto chiaro questo che ci hai detto. Mh diciamo che intanto lo scenario volevo un po' giusto per ricordare perché ne abbiamo parlato ma insomma per ricordare chi ci segue lo scenario del eh i vari mesi che abbiamo di cui abbiamo parlato eh dell'accordo sul nucleare vedeva eh gli Stati Uniti, la Cina, la Francia, eh il Regno Unito, la Russia e la Germania contrattare appunto e poi accordarsi su con sullo sviluppo del nucleare iraniano che doveva escludere utilizzi eh utilizzi militari insomma. Eh dobbiamo dire almeno a mio parere che la non so se ci fosse già Mogherini ma comunque eh l'Unione Europea, l'Europa in generale ha fatto un po' una comparsa perché non mi sembra che abbia avuto un ruolo sostanziale in questa in questa in questi accordi, questa trattativa e mh dopo questi accordi sull'Iran praticamente sul nucleare praticamente si si sarebbe dovuto aprire come tu dicevi un Eldorado perché? Perché si sbloccavano una serie di restrizioni nei confronti dell'Iran che anche gli Stati Uniti avevano intanto riguardava soldi, depositi ma anche l'apertura di mercati eh la fine di imbarghi su certe cose che credo che ormai siano ridotte a pochissimi tipi di merci e quindi nuovi mercati che si sarebbero aperti. Ecco tutto questo ma in primis i soldi che sono stati sbloccati avrebbero dovuto portare alla popolazione una sorta di benessere, una sorta di eh riattivazione all'interno dell'Iran di un'attività economica e quindi anche benessere, il che invece non si è visto. Ricordo soltanto che in questi anni il regime iraniano ha speso oltre 100 miliardi in Siria. Ufficialmente il regime iraniano paga oltre un miliardo a Hezbollah annualmente. Il regime iraniano sistematicamente viene riconosciuto lo sponsor principale del terrorismo internazionale. Il regime iraniano ha dall'Afghanistan fino eh al Libano, no? Questo asse per stare sotto orecchie di 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 Israele a 100 mila diciamo mercenari come li vogliamo chiamare. Questo costa. D'accordo? Il paradosso del povero regime quale? Che non può non può arrezzare perché ricordiamoci sempre io per esempio ieri alla conferenza stampa al fattivo radicale ho voluto sottilinare questo che sì gli europei stanno comportando in una maniera molto molto diciamo eh calpestano soprattutto i loro valori. Nel caso eh del trattamento sul nucleare eh John Kerry faceva il ministro degli esteri dell'Iran d'accordo? Quindi varie volte abbiamo detto a questo regime sanguinario no? Hanno aiutato veramente in tutte le maniere però alla fine il regime iraniano deve fare conto conti con il popolo iraniano in Iran a Teheran. Quindi tutto questo espansionismo del regime iraniano appunto per portare via per esportare le sue crisi. E queste crisi costano. Per cui nello Yemen per esempio lì aiutato aiuta i Ossi contro eh contro eh contro diciamo eh Arabia Saudita. Tutto questo costa. Poi dall'altra parte gli uomini del regime sono estremamente corrotti. Voi dovete sapere che eh il tasso della corruzione ufficiale in Iran sono trentacinque per cento. Io molte volte io siccome amo molto l'Italia e soffro molto che molti imprenditori italiani e mia seconda patria fanno affari in Iran. Io veramente soffro sono molto molto ammareggiato. Allora col sarcasmo dico forse italiani sono abituati alla corruzione e quindi si trovano bene in Iran. Allora non posso dire. Sì 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 è molto molto diciamo comico e sarcastico questo tuo commento ehm senti eh Smaile un'altra cosa ti volevo chiedere ehm nella versione ufficiale in qualche modo che hanno dovuto dare eh riguardo a questa a queste 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 ribellioni a queste rivolte a questi ehm diciamo ehm manifestazioni ehm si si è detto che praticamente Ahmadinejad fosse cioè il vecchio l'ex diciamo leader fosse eh lui diciamo sovillatore eh e peraltro pare che sia agli arresti domiciliari. Ecco tutto questo alla luce di quanto ci dici è una cosa completamente fuori dal mondo. Sì no anche qui ho sentito perché noi dobbiamo sapere che in Iran eh il ministero delle informazioni è molto molto attivo quindi spaccia le notizie false le disinformazioni ma per quale motivo Ahmadinejad? Ahmadinejad effettivamente si lamenta della situazione perché dall'altra parte d'altra parte eh si dice che Khomeini sta per morire perché già eh malattie hanno stato avanzato per cui questi diciamo eh si preparano per il dopo eh Ahmadinejad anche e lui è uno dei artefici della crisi economica in Iran e quindi ma figuriamoci se la gente eh vuole seguire Ahmadinejad il resto Ahmadinejad non è che è un eh innocente che è arrivato da poco lui eh ha governato però ero otto anni e quindi ricordiamoci che quegli anni il petrolio costava centocinquanta dollari quindi queste sono notizie che lasciano tempo che trovano sinceramente non ne vale neanche parlarne all'inizio la stampa italiana ha ripreso abbastanza con forza qualcuno proprio si è speso però hanno capito che non 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 vale la pena insistere. Bene stiamo intanto nei nostri ultimi dieci minuti e volevo farti alcune altre domande. Allora l'una è questa ehm Trump eh insomma una delle cose su cui per ora è rimasto e sembra essere abbastanza coerente almeno fino al momento è quella appunto di una netta presa di posizione contro questo accordo sul nucleare non so se perché l'ha fatto Obama o solo perché ha qualche piano comunque sia lui è contrario lo vorrebbe appunto eliminare ehm ed è molto critico ovviamente sul con il con il regime iraniano ecco io volevo chiederti eh Trump secondo te perché è così critico se si è esposto molto su questo e poi volevo chiederti secondo te cosa pensa come insomma si sente Israele vittima in qualche modo predestinata da sempre almeno di minacce ecco come si sente in questo momento mh Israele eh alla luce appunto di queste rivolte all'interno dell'Iran. Allora Trump ha preso questa posizione perché legge i miei articoli. L'altro giorno avevo scritto come battuta nel mio articolo che eh i governanti americani mi devono eh dare il diritto d'autore perché tutte le loro posizioni che prendono eh io eh sto pubblicando da decenni. Oltre la battuta eh io allora se tu ti ricordi quando eh l'accordo nucleare ho scritto più articoli e spiegavo perché era un cattivo eh eh accordo. Per gli iraniani e per gli occidenti e per il mondo intero. perché io sinceramente quando ragiono non ragiono iraniano italiano americano io sono un essere umano un cittadino del mondo quindi capisco che cosa bene che cosa va bene per tutti. Quindi quello era un cattivo eh era un cattivo diciamo accordo che Obama a tutti i costi lo voleva al costo di dare carta bianca all'Iran in Siria. No? Quell'accordo a centinaia di migliaia di morti sulla coscienza. Vi ricordate che aveva detto eh attacco con armi chimiche eccetera eccetera. È stato zitto per l'accordo nucleare. D'accordo? Quindi non andava bene. Mi ricordo anche le conferenze di Ginevra su sulla Siria. Esatto. Poi dall'altra parte eh quell'accordo eh doveva e doveva essere eh la prima fase di una serie di accordi tipo l'ingerenza del regime iraniano eh in Medio Oriente. Beh appena abbiamo accennato regime presente massicciamente in Iraq in Siria in Libano eh perfino eh nello Yemen. È proprio prima di collegarmi con voi ho sentito che otto passeranno proprio in questi giorni sono stati uccisi in Siria oggi hanno eh li hanno seppelliti in Iran. D'accordo? Quindi iraniani sono presenti e l'America non vuole questo. L'America dall'altra parte eh al contrario diciamo dell'amministrazione di Obama tutti gli uomini del governo di eh di Trump sono persone che da tempi non sospetti prendevano una posizione molto ferma contro regime iraniano. Ecco perché dico hanno una una posizione sull'Iran molto vicino a me. Per il resto Trump e la tua amministrazione sono persone davvero più lontane possibili da me. Su tutti i punti di vista no? Ma su questa cosa veramente sono molto vicini. Il fatto che l'Iran fa parte del problema del Medio Oriente l'abbiamo detto mille volte ma non fa parte della soluzione. finché l'Iran esiste genera eh crisi. Senza eh un cambiamento in Iran in Medio Oriente non ci sarà pace, stabilità eccetera eccetera. Questo è veramente molto molto chiaro. Eh Trump ha capito questo. Poi per quanto riguarda Israele Israele molto 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 eh eh è stato allerto varie volte in questi ultimi tempi poi non dicono loro non dicono diciamo non dice la stampa internazionale varie volte israeliani hanno bombardato in Siria dove c'erano i pastorani iraniani. Sì. Quindi al di là diciamo degli slogan che lanciano iraniani contro Israele hanno molto paura. Gli israeliani reagiscono. Perché per loro è in questione di vita e di morte. Anche perché comunque sia eh diciamo eh quello che è un anche se va avanti questa protesta e diventa una rivolta e travolge magari non so arriva a travolgere il il diciamo il potere costituito in un là e quant'altro bisogna vedere chi viene dopo. C'è sempre questo problema. E questo è questa è in chiusura volevo proprio farti diciamo darti lo spazio per questa considerazione. Allora tu dici che la faranno perché perché la gente è affamata e quello è ovviamente un motivo di ribellione dalla notte dei tempi. La fame smuove le masse molto più che le religioni. Ecco allora tu stando appunto immerso anche culturalmente come provenienza anagrafica ma insomma che cosa eh più che cosa ti auspichi cosa prevedi che possa capitare? Guarda gli uomini di regime da sempre paventano se cadiamo noi l'Iran diventa Libia, l'Iran diventa Siria no? Ma è tutto falso. Allora in Iran c'è un'alternativa, in Iran c'è una resistenza, in Iran dal 1981 esiste Consiglio nazionale della resistenza iraniana con un piattaforma scritta, pubblicata, chiara, con un governo che si impegna durare solo sei mesi, portare il paese ad un referendum per l'assemblea costituente eccetera eccetera. L'Iran non è la Siria, l'Iraq, Libano che erano i paesi che tutto sommato sono nati ieri tra prima e seconda guerra eh mondiale. L'Iran soprattutto la resistenza iraniana guidata da una donna, una donna musulmana eh già si eh si è espressa eh che governo vogliamo per il futuro laicità è un perno diciamo eh dell'Iran eh del futuro eccetera eccetera. Ma quello che è importante, quello che è importante finalmente eh gli iraniani avranno la possibilità di andare a votare perché è chiaro questo io lo capisco perfettamente non è che oggi cade in regime domani l'Iran diventa Svizzera no? Perché la democrazia è un processo noi siamo molto consapevoli di questo però se non inizi non arriverai mai quindi io sono molto molto ottimista nel futuro dell'Iran perché soprattutto bisogna considerare che il problema ora sono i nulla io non posso tenere questi perché non so domani che cosa succede soprattutto noi abbiamo esperienza della rivoluzione del 79 noi eravamo molto decisi contro lo Shah non abbiamo fatto la domanda per dopo ma oggi sicuramente lo faremo la stessa esperienza degli iraniani che hanno per esempio usato gli egiziani egiziani quando è arrivato Morsi Morsi in pochissimo tempo veramente voleva creare uno stato eh tipo quello iraniano no? Ma gli eh egiziani hanno reagito oggi loro hanno un eh diciamo un presidente militare un governo militare ma guardate che specialmente nelle grande città la gente capisce che non è ideale no? Ma è preferibile rispetto a un governo islamico islamico integrista perché insomma al ventunesimo secolo noi non possiamo avere un governo teofratico quindi il problema oggi è abbattere questo regime poi per il futuro per quanto riguarda noi noi siamo eh ci siamo organizzati abbiamo programmi diciamo pubblicati perfetto allora Ismail siamo arrivati alla fine ehm io ti ringrazio di questa della partecipazione a questa a questa trasmissione eh così che insomma torniamo anche con LibriTV a parlare un po' del del mondo e ne parliamo appunto con cognizione di causa grazie a te in questo caso eh sempre con un occhio rivolto alla libertà eh e ovviamente in questo caso la libertà di un popolo dalla antichissime tradizioni a questo punto non mi resta altro che darti eh appuntamento a un prossimo approfondimento ringraziare la regia di Donato Volpicella eh salutare tutti voi e lasciare a te eh qualche parola per la chiusura allora l'unica cosa che io voglio dire è che eh le manifestazioni in Iran magari in altre forme magari in altri luoghi eh proseguiranno perché ripeto le cause di proteste sono diffuse e profonde e il regime iraniano in questi diciamo quasi quarant'anni ha dimostrato di non poter rispondere per cui sta a noi iraniani specialmente agli iraniani che stanno in Iran a scendere in piazza a prendere diciamo ciò che è di loro e quindi ripeto la mia previsione è che non ci fermiamo qui diveriamo il nostro paese grazie a tutti grazie a Donato Volpicella grazie Ismail a presto su questi schermi ciao ciao a presto grazie a Donato Volpicella grazie a tutti